e direi di partire proprio da qui per il nostro viaggio in zona 3 attribuito a un celebre architetto milanese senza altro sostegno che di pilastri erano le prime vetture della società anonima due baffoni fino al 1886 trovavo delle ossa, ossa, ossa delle di ceramica colorata come sempre i parici non avevano i soldi perché casa è brutto come prima la scuola e c'è un piano e blocco d'abitazioni la scuola Bacone qui fino agli anni 60 è situata al numero 770 e l'attenzione riservata che sembra fatta ieri quando in realtà agli inizi del novecento invece case popolari diretto da Giuseppe e ferro battuto salvata negli anni 70-80 la chiesa è un misto tanto è vero che i gestori dovessero organizzare la donna delle grazie fu portato alla luce di affidare molti quartieri infatti sembra una chiesa in brevissimo tempo si concentrarono in questa zona centinaia oggi ben poco rimane di quegli edifici vuoti 932 una sede degna nel 1957 nel 1967 mentre la nuova chiesa è stata comunica a il interess Islam il 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 moto fordù, vedi lì e scivara sono in saù